Il nuovo direttore delle news E' un giornalista molto competente, ha due lauree e poi ha sposato e ha due figli meravigliosi E' praticamente un santo Sì, a me ha tolto tutto dalla sera alla mattina per darti a te tutta la cronaca parlamentare e anche quella nera E che hai sbagliato, ma in cosa? Hai detto in diretta che Lagos è il Costa d'Amore Ma stai zitta Andiamo su e in questo hotel e una volta in camera i miei sedetti Lui si mise a fianco a me sul letto Mi chiede se volevo un succo di frutta E si mise a parlare Parlammo del senso della vita e mi chiede se credevo in Dio Insomma, di tutte quelle cose lì E facciamo solo questo Nessuno ci può credere Ma non successe nulla in quelle due ore Infatti, dopo due ore, quando il tipo della Chefson ci chiede di scendere Non ci siamo dovuti nemmeno ricomporre Siamo scesi di corsa Insomma, dopo sei mesi ci siamo sposati E ieri l'ho ammazzato L'ho ammazzato a coltellate L'ho ammazzato a coltellate Grazie a tutti